ultima settimana sempre meno non 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 L'importante è che si mangi da Dio, di suonare non ce ne frega niente. Bene, bene, molto bene, guarda siamo qui davanti al computer, aspettare che Caprara faccia dei temi sul tuo grande singolo, il singolo che verrà lanciato, quindi stiamo attendendo. L'unica cosa è che non so cosa ha scritto Iac, perché non abbiamo i tuoi bassi in questo momento, quelli di A1, e ci chiedevamo se ci avessi ancora il file WeTransfer da spedirci. L'idea è quella che praticamente diventerà un solo di basso e verranno tutte duplicate, esatto, effettato con un chorus alla Cure. Esatto, assolutamente, assolutamente lo faremo. Comunque Caprara sta continuando a scazzare nota, e continua a... E' già qualcosa... E' bellissimo... Ma roba... Che roba è... Ma roba... Che ti piace... Che ci piace... Che ci piace... Che ci piace... E come ti stai accordando tu? Arrecchia... 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 Il concetto di accordare... Arrecchia da trauma? Si... Col fiato? No, come ti... No, col bocchino... Si, col bocchino e col fiato... Ho capito, ma rispetto a che cosa? Rispetto alla prima noce? Cioè, cosa stai prendendo? Rispetto a... Ah... Tutto... Ok... Fai sentire... Assistente... Mi sembra? Aspettate... Poi... Fa diesis... Tre... Quattro... Perchè non l'hai registrata? Eh? Perchè non l'hai registrata? Perchè non l'hai registrata? Eh? Perchè non l'hai registrata? Dai Cristino... Vai di là! Mixaggi... Sempre un'ottima scusa per bere... Ora aspetta... Levatele le cuffie prima... Aspetta... Vieni un attimo qui... Così capiamo... Eh? No però... Ora... Non ci vedi... Non ci vedi un cazzo... C'è un maledetto bastardo... E la luce... Ehi... 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 Che schifo... Notturno... Cristo! In teoria ci sono... Rispondo io e mando a fare il culo, va bene? E' Veronica... E' Veronica... E' Veronica! E' Veronica! Salto! Salto! Ciao! E' le tue coppie! Ero le tue coppie? Personale? Perciò le tue coppie! Guardate le f***he... Io ho fatto... Ma secondo te il regalo un zigoti a una f***e? Te! Che f***e frequenti! è lì il trucco e le fighe fregando io vogliono i SUV i tanga jami non mi frega un cazzo di un gruppo che ti stringa un po' zun i tanga jami non sento un cazzo appena sparo non sento cazzo vai si vai si si ma 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 Grazie a tutti. 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 la U. Grazie a tutti. Grazie a tutti.